Buonasera a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Sequestrati beni dalla Guardia di Finanza ad un'impresa operante nel settore informatico a Palmi. La città di Vibo Valencia ha ospitato un incontro per alcolisti anonimi. Al via la mezzaterme la nona edizione di trame Festival dei Libri sulle mafie. La clinica San Giorgio di Reggio Calabria è un esempio virtuoso in Calabria. In apertura dunque la cronaca. La compagnia di Palmi della Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 900 mila euro ad un'impresa operante nel settore dell'informatica e dal suo legale rappresentante. I finanzieri della compagnia di Palmi hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni emesso dal GIP del Tribunale nei confronti di un'impresa operante nel settore dell'informatica e del suo legale rappresentante fino a concorrenza di una somma pari a circa 900 mila euro. Il provvedimento eseguito dalle fiamme gialle sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi scaturisce dagli esiti di una verifica fiscale a conclusione della quale è emerso che l'impresa controllata nel 2013 aveva occultato al fisco ricavi per circa 3 milioni e 850 mila euro con conseguente evasione fiscale dell'IVA e delle imposte sui redditi. Sulla scorta di queste risultanze, tenuto conto che l'imposta evase è risultata superiore alle soglie previste dalla normativa appena tributaria, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo dei beni risultati nella disponibilità della società e del suo amministratore per un importo corrispondente alle imposte evase. Gli alcolisti anonimi si sono riuniti per la prima volta nella città di Vivo Valencia coinvolgendo le 5 macroarie del sud. Vediamo. L'alcolismo è una malattia cronica caratterizzata da alterazioni comportamentali, fisiche e psichiche causate dal consumo continuativo o periodico di quantità elevate di alcol. Chi è alcolista di solito non si rende conto di tutto ciò, ma può accadere che quando arriva a quel fatidico punto di non ritorno si convinca a chiedere aiuto. A tendere la mano a queste persone c'è l'Associazione Alcolisti Anonimi che per la prima volta si è riunita a Vivo Valencia con un seminario al quale hanno partecipato persone provenienti anche dalla campagna, dalla Basilicata, dalla Puglia e dalla Sicilia. Il nostro intento è trasmettere il messaggio di A, di Alcolisti Anonimi, il messaggio di speranza del recupero per chi è nel problema e quindi in questo territorio siamo già presenti perché abbiamo dei gruppi alla Mezzia Terme, a Reggio Calabria, a Rodone, a Cosenza, forse me ne dimentico qualcuno. Comunque è importante per noi farci conoscere, far conoscere l'Associazione in tutto il territorio per dare l'opportunità a chi vive il problema dell'alcolismo, un'opportunità di recupero, una speranza di ritorno alla vita senza bisogno della sostanza alcol. Per ovvi motivi non possiamo far vedere le facce di chi ha partecipato all'incontro, tantomeno fare nomi, ma ci siamo resi conto che la condivisione delle loro esperienze anche ad un pubblico più ampio potrebbe essere di aiuto ad altri che si trovano nella stessa situazione. Io vi ringrazio di aver partecipato, per me Alcolista Anonimo è la seconda mamma, io sono rinato, mi raccomando trasmettete questo messaggio che è un messaggio di vita, noi facciamo questa riunione positivamente per trasmettere questo messaggio che l'alcolismo è una malattia inguaribile, progressiva e mortale, io ho distrutto la mia famiglia, per fortuna l'ho recuperata. L'alcolismo però non colpisce solo chi beve, coinvolge le intere famiglie. Io ho scoperto l'associazione 34 anni fa in seguito ai vari ricoveri di mio marito, poi parlando con un pediatra che curava la mia bambina mi ha suggerito che esisteva già a Reggio Calabria un gruppo di Alcolista Anonimi e di familiari alla nonna e io mi sono precipitata perché per me era l'ultima carta che stavo giocando, perché le avevo provate tutte. Alla fine sono arrivata al gruppo non perché lui volesse venire a smettere di bere, lui veniva ad accompagnare me. Da quel giorno non è più uscito dal gruppo, è andato in assidenza etilica, in coma purtroppo, non ha più bevuto. È stata dura all'inizio perché stradicare l'alcolismo da un organismo è una dipendenza troppo brutta, forse più della droga. Però lui con impegno, insieme al mio impegno a fare programma, a cominciare a essere di nuovo una famiglia, ha ricostruito la sua e la mia vita. È iniziato alla mezzaterme la nona edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie con la partecipazione del procuratore capo della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri. Presentazione di libri, incontro con gli autori, discussioni, approfondimenti, ancora proiezioni, esibizioni musicali e teatrali. Alla mezzia ha aperto i battenti la nona edizione di Trame, festival dei libri sulle mafie promossa dalla Fondazione Trame e dall'Associazione Anti-Racket. Nella prima giornata dell'evento subito un incontro di peso con il procuratore della Repubblica di la mezzaterme, Salvatore Curcio, e quello della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha parlato di come modificare il sistema giudiziario e della riforma del CSM. Come modificare il sistema giudiziario? In inizio generale io insisto sempre molto sull'informatizzazione, sull'applicare la tecnologia disponibile nel 2019 al processo e fare tale e tante di quelle modifiche fino a quando diventi non conveniente delinquere. La riforma del CSM è una cosa che io ripeto da più di dieci anni, che vanno creati proporzionalmente la rappresentatività di giudici e di pubblici ministeri, perché in Italia siamo 8.000 giudici e due di pubblici ministeri. Vanno rimpiccioliti i collegi e proporzionalmente che sia rappresentata tutta la magistratura dal sud al nord. E se non si riesce a trovare un sistema dove le correnti continuano a dimostrare il loro potere, le loro forze e quindi a dettare, ad imporre sostanzialmente il candidato, alla fine se non c'è un rimedio migliore si va al sorteggio. Una storia fatta di professionalità e di investimenti mirati a migliorare la qualità dei servizi offerti, è quella della Clinica Veterinaria San Giorgio di Reggio Calabria. Una struttura d'eccellenza nel settore veterinario, parliamo della Clinica San Giorgio di Reggio Calabria, vero e proprio punto di riferimento per gli specialisti. Una storia che nasce circa 15 anni fa e passa attraverso investimenti mirati e volti a migliorare la strumentazione a disposizione dei professionisti che operano nella clinica e che riescono oggi a curare patologie che fino a poco tempo fa erano prerogativa di altre regioni. Già nel 2008 fumo fra i primissimi in Italia a installare una tag spirale, quindi per uso umano, non per uso veterinario, della Generale Electric, uno strumento ad altissimo valore tecnologico che ci dite la possibilità di farci conoscere sul territorio e di essere quindi di supporto alle strutture veterinari più piccole che ovviamente non potevano affrontare diagnostiche costose e complesse o interventi chirurgici estremamente complessi come quelli in neurochirurgici ma anche in altri settori. Nel 2017 dopo una serie di altri strumenti come il microscopio operatorio o quant'altro per migliorare ovviamente per effettuare degli interventi sempre più tecnici, sempre meno invasivi e sempre più performanti, arriva finalmente l'acquisto di una risonanza magnetica itaci, quindi siamo in questo momento l'unica struttura in Calabria dotata sia di risonanza magnetica che di tomografia spirale. Questo ovviamente ci consente un vantaggio diagnostico notevolissimo, una grande precisione della diagnosi e conseguentemente per i pazienti che hanno un'indicazione chirurgica un intervento sempre mirato, quindi con dei risultati molto positivi. Ci ha portato questo un pochettino al vertice dal punto di vista numerico, oggi effettuiamo oltre 300 interventi l'anno neurochirurgici, prevalentemente sulla colonna, quindi sul rachide, per un fatto prettamente di gasistica, di frequenza e in misura minore anche interventi intracranici, quindi neoplasie o traumi, traumi cranici, neoplasie del sistema nervoso centrale. Una mostra itinerante di strumenti musicali e spartiti antichi ha accompagnato il doppio appuntamento della rassegna musicale organizzata dal Conservatorio Torrefranca di Vibo Valencia insieme ad Amacalabria e che ha visto protagonista la Brass Ensemble Torrefranca e l'orchestra di fiati dello stesso conservatorio. Promuovere la cultura musicale bandistica e avvicinare sempre più le nuove generazioni all'arte e i luoghi di interesse culturale. Mille e una nota in giro con la banda è una mostra itinerante allestita da Promocultura, associazione per la promozione culturale calabresia in Europa, che ha fatto tappa anche a Vibo Valencia nei saloni dell'auditorium dello Spirito Santo, in accordo con il Conservatorio di Musica Torrefranca che l'ha ospitata in occasione di uno dei tanti concerti che imprezziosiscono la stagione musicale allestita dall'istituzione vibonese. È stato così possibile guardare e prendere diretta conoscenza di alcuni strumenti antichi e di spartiti che raccontano una vera e propria storia musicale calabrese. Una mostra per immagini e per strumenti per raccontare una storia che in Calabria è molto sentita, quella delle bande? Sicuramente la banda rappresenta sempre un forte richiamo perché suscita sempre sentimenti di condivisione, di gioia, di allegria. Questa mostra che questa sera avrete modo di visitare, che è composta da una sedia di roll-up che racchiudono le storie di alcune bande calabresi nonché la storia delle bande militari, fa capo a un progetto che l'Associazione Promocultura ha realizzato con il sostegno della Regione Calabria e che ha per titolo Mila e una nota in giro con la banda. Questo è stato un progetto inserito in un programma regionale per la valorizzazione del patrimonio artistico della Regione Calabria e noi abbiamo pensato come associazione di fare un binomio molto interessante, cioè di coniugare il fascino che la banda esercita da sempre nell'immaginario collettivo e poi di presentare praticamente oltre a dei momenti musicali anche una mostra itinerante che racchiude appunto la storia di queste bande sia militari che quelle civili, religiose, in due momenti particolari. Infatti un primo step ha riguardato la banda nelle feste religiose e l'altro step ha riguardato la banda delle forze militare. E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 delle Digitale Terrestre e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it Grazie per essere stati con noi.